Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi parleremo nuovamente insieme di sorveglianza domestica e lo faremo analizzando la nuova IMU Cruiser che ad oggi, senza ombra di dubbio, è la migliore telecamera di sorveglianza da esterni alimentata a corrente elettrica che ho avuto modo di provare fino ad ora anche perché l'applicazione che la gestisce, IMU Life, offre un set di funzionalità molto completo Detto questo però, come sempre, se volete vedere altri contenuti di questo tipo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo, naturalmente, vi ringrazio di cuore in anticipo Per quanto riguarda le specifiche, questa telecamera è in grado di registrare video in full HD e in formato H.265 La visione notturna è a colori Può distinguere le forme umane dalle altre anomalie È certificata IP66 e quindi può essere utilizzata senza problemi anche all'aperto I due faretti a LED possono servire anche come deterrente per gli intrusi L'audio è bidirezionale Può anche ruotare di 360 gradi in orizzontale e di 90 in verticale Le registrazioni possono essere salvate sul cloud, su una schedina microSD e volendo su un NVR È in grado ovviamente anche di rilevare il movimento inviando contemporaneamente una notifica allo smartphone Il tutto è programmabile, compresa l'inquadratura dalla quale si possono escludere alcune zone Per mezzo del geofencing si possono disabilitare velocemente alcune funzionalità quando ci si trova in casa oppure fuori Lo zoom digitale può arrivare fino ad un fattore di 16 ingrandimenti La connessione invece può avvenire sia via LAN sia via Wi-Fi Che deve essere obbligatoriamente a 2,4 GHz Ed infine c'è anche il tracciamento intelligente del movimento Naturalmente l'applicazione che gestisce il tutto è disponibile sia per Android che per iOS Mentre per quanto riguarda la dotazione di accessori nella confezione c'è la documentazione tecnica comprensiva di guida rapida Poi c'è l'alimentatore da parete in formato europeo La staffa per il montaggio a parete I giunti per sigillare i collegamenti Ed infine anche la solita dotazione di viti e tasselli La qualità costruttiva è molto buona come del resto è ormai consuetudine per IMU Sulla sommità oltre alle due antenne fuoriescono anche i cavi LAN e di alimentazione Mentre accanto all'obiettivo ci sono i faretti a LED per la visione a colori e ad infrarosso e quindi in bianco e nero Il microfono e l'indicatore a LED Ed infine qui sotto questa linguetta che si rimuove togliendo queste due viti Ci sono anche lo slot per la schedina microSD e il pulsantino per il reset Mentre anche in questo caso lo speaker si trova sul retro La prima configurazione è naturalmente gestita da IMU Life che viene regolarmente aggiornata E che conosciamo bene perché l'abbiamo già vista in passato Per cui dopo aver creato un account e concesso le varie autorizzazioni Per aggiungere una nuova telecamera nella schermata principale dovremo cliccare sul simbolo del più che si trova in alto a destra Cosicché potremo scegliere se vogliamo aggiungerla manualmente oppure automaticamente scannerizzando il codice QR Poi per continuare dovremo collegare la telecamera alla corrente elettrica Verificando che l'indicatore a LED lampeggi lentamente in colorazione verde E avere anche sotto mano la password della rete wifi alla quale vogliamo connetterla Poi dovremo collegare la telecamera Concedere l'autorizzazione affinché l'applicazione possa stabilire una connessione con lo smartphone Utilizzando una rete wifi temporanea creata dalla telecamera stessa Cosicché poi nel passo successivo potremo scegliere la rete wifi effettiva Che vogliamo utilizzare per la connessione che vi ricordo ancora deve essere obbligatoriamente a 2,4 GHz Inserendone anche la relativa password E poi dovremo attendere il tempo necessario affinché la telecamera si connetta al servizio di cloud Cosicché alla fine potremo assegnarle un nome Inserirla nell'ambiente dove la utilizzeremo Attivare se vogliamo la prova gratuita del servizio di cloud E poi seguire questa breve guida introduttiva Ed infine se disponibile anche aggiornare il firmware all'ultima versione Come vi dicevo IMU aggiorna regolarmente la propria applicazione Alla quale ultimamente sono stati aggiunti anche gli scenari smart Che in passato abbiamo già visto implementati in altre occasioni I quali permettono di far eseguire alla telecamera alcuni compiti Al verificarsi di determinate circostanze Per cui ad esempio è possibile disabilitare le notifiche Nel momento in cui arriviamo a casa Oppure iniziare la registrazione di un video Quando viene rilevato del movimento Per il resto anche in questo caso l'applicazione si divide in tre sezioni La prima dove oltre agli scenari smart c'è anche l'elenco di tutte le telecamere Associate all'account Che nel mio caso come potete vedere sono parecchie Nella seconda invece ci sono gli abisi personali E le informazioni di sistema Dove vengono comunicati anche eventuali manutenzioni del servizio di cloud Mentre nell'ultima ci sono alcune opzioni generali Che permettono di gestire il servizio di cloud I file locali E quindi foto e video salvati nella memoria dello smartphone Gli strumenti che permettono oltre che di verificare la qualità del segnale wifi E gestire il blocco del dispositivo Che se attivato impedisce perfino al servizio clienti di rimuovere la telecamera dall'account Mentre la prima opzione consente di trasmettere un video in diretta Quando sia il telefono che la telecamera si trovano sulla stessa rete locale Ed infine scegliendo la voce impostazioni Si possono gestire le notifiche Modificare il layout della schermata iniziale E alcune altre cosette che permettono agli utenti più esigenti Un livello di personalizzazione più approfondito Anche se ovviamente pure in questo caso Il cuore dell'applicazione è comunque la scheda principale Che consente di entrare nella vista live Da dove è possibile vedere in diretta Quanto inquadrato dalla telecamera Anche con una connessione dati Ottenendo al contempo delle informazioni sui consumi dello streaming Mentre con questa icona a destra si può abilitare il picture in picture Da qui sotto invece potremo mettere in pausa la riproduzione Attivare la multifinestra Modificare la qualità dello streaming Che può essere impostata su HD oppure SD Attivare il microfono della telecamera Il che consente di sentire i suoni ambientali con lo speaker dello smartphone Ed infine mettere la finestra a schermo intero Poi da qui sotto potremo visualizzare la cronologia delle registrazioni Salvate sia sul servizio di cloud sia sulla schedina microSD Mentre con le restanti icone potremo scattare una fotografia E registrare un breve video Che naturalmente saranno entrambi salvati in locale E quindi nella memoria dello smartphone Attivare l'altoparlante della telecamera Il che ci permetterà di comunicare con chi si trova nell'inquadratura Visualizzare i joystick virtuali Che consentono di ruotare la telecamera in tutte le direzioni E quindi sinistra, destra, alto e basso Con degli spostamenti che sono praticamente in tempo reale Ed inoltre si possono anche impostare delle posizioni preferite Così da raggiungerle con un semplice clic Ed infine con le ultime due icone Si possono attivare la sinona integrata E i faretti a LED Che consentono la visione notturna a colori Mentre per entrare nel menu impostazioni Dovremo come sempre cliccare sulla rotellina dentata Che si trova qui in alto a destra In modo che si aprirà questa ulteriore schermata Dove potremo modificare il nome del dispositivo Consultare le funzionalità disponibili Ed infine modificare anche l'anteprima mostrata Nella schermata principale Mentre dalla sezione relativa alle impostazioni di allarme Potremo gestire le notifiche Abilitandole oppure disabilitandole Scegliendosi includere o meno una fotografia Ed infine se ottenere anche una notifica Nel caso in cui la telecamera Dovesse perdere per qualsiasi motivo La connessione all'internet Mentre sempre nella stessa sezione L'opzione relativa a rilevamento Permette di scegliere se registrare o meno un video Quando viene rilevato del movimento Che come vedete può essere limitato Esclusivamente alle forme umane Poi si può anche attivare il tracciamento intelligente Per cui la telecamera è in grado di ruotare autonomamente Seguendo gli spostamenti di chi si trova nell'inquadratura Si possono anche pianificare dei programmi Così da escludere alcuni orari in determinati giorni Si può regolare la sensibilità del rilevamento Che può variare in una scala che va da 1 a 5 Ed infine si possono anche escludere alcune zone dell'inquadratura Dove a causa di alcune condizioni Come possono essere ad esempio i giochi di luce Oppure i rami di un albero E' più facile che si verifichino i cosiddetti falsi positivi Poi tornando indietro Fino a ritornare alla schermata principale Con l'ultima voce della sezione Impostazioni di allarme Si può abilitare o meno la sirena integrata Poi proseguendo La prossima sezione permette di gestire il servizio di cloud Che anche in questo caso Dopo i 30 giorni previsti dal periodo di prova Diventa pagamento Ma naturalmente in alternativa al servizio di cloud Si può anche usare una schedina micro sd Che anche se in modo meno sicuro Permette comunque di fare le stesse cose E quindi di registrare i video In corrispondenza delle rilevazioni di movimento Per i quali si può scegliere sia la qualità Sia creare dei programmi In modo da limitare la registrazione Solamente a determinati periodi Ed infine con l'ultima sezione Impostazioni del dispositivo Si può con la prima voce Attivare i faretti a led Che possono essere fissi oppure lampeggianti Inoltre si può gestire la visione notturna Che può essere intelligente Per cui in condizioni di scarsa luminosità Sarà attiva quella a infrarossi Mentre quella a colori si accenderà esclusivamente Nel momento in cui viene rilevato del movimento Oppure si può abilitare la visione notturna A colori realistica Per cui i faretti si illuminano ad alta intensità Di modo che le immagini possano essere a colori Si può naturalmente anche attivare la visione notturna Ad infrarossi Che restituisce immagini più nitide Con meno rumore di fondo Che sono però esclusivamente in bianco e nero Mentre selezionando l'ultima opzione Anche se la luminosità è insufficiente La telecamera cercherà comunque di ottenere Le migliori immagini possibili Senza utilizzare né i faretti Nelle luci ad infrarosso Mentre tornando alla schermata precedente Con la voce successiva Si può scegliere anche la sensibilità Del sesore di luminosità Che può essere impostata su una scala Che va da 1 a 5 Poi tornando indietro E proseguendo in questa breve carellata La prossima opzione consente di ricevere l'audio Proveniente dalla telecamera Di condividere il dispositivo E di attivare l'HDR Che consente di aumentare la qualità delle immagini In condizioni di elevato contrasto E quindi quando ad esempio la telecamera È rivolta verso una finestra Oppure una porta a vetri Poi continuando si può gestire il wifi Mentre la prossima funzionalità È davvero utile Perché consente molto semplicemente Di aggiungere la telecamera Alla schermata principale dello smartphone Ed infine scegliendo la voce altro Si possono gestire l'indicatore a LED I suoni di sistema Si può ruotare l'immagine Il che diventa utile Quando la telecamera è installata a capovolta Attivare la criptografia di sistema Il che permette di aumentare enormemente la privacy Ed infine regolare il fuso orario Il formato della data E riavviare il dispositivo Il che conclude l'analisi dell'applicazione Per cui come sempre È arrivato il momento di uscire in giardino Per registrare Così da poterli analizzare insieme Alcuni test sul campo Così da poterli analizzare insieme Così da poterli analizzare insieme A tre metri di distanza dalla telecamera Che si trova a sua volta A tre metri di attenzione al suono Fino ad arrivare nel punto più lontano A quindici metri Così da poterli analizzare insieme E allora secondo test di urno per la nuova IMU Cruiser Questa volta per vedere come lavora Il tracciamento intelligente del volume Così da poterli analizzare insieme Così doimoppolo Grazie a tutti. E allora come avete visto il tracciamento intelligente del movimento lavora abbastanza bene a patto però di non allontanarsi troppo dalla telecamera. Continuiamo con un TESNO TUDO a colori. Grazie a tutti. Ed infine concludiamo con il TESNO TUDO in bianco e nero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso verifichiamo invece come funziona il tracciamento intelligente notturna. Grazie a tutti. 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 Ed effettivamente come avete visto la telecamera è riuscita a seguire più o meno in tempo reale i miei movimenti anche in ottima. Alexa, mostra IMU Cruiser. Ok. E allora breve test audio dell'altoparlante integrato in questa nuova telecamera di sorveglianza da esterni di IMU. Nell'introduzione vi ho detto che ad oggi pur non essendo perfetta questa è sicuramente la migliore telecamera da esterni alimentata a corrente elettrica che ho avuto modo di provare fino ad ora soprattutto per via dell'applicazione che è molto più completa rispetto a quella delle sue concorrenti. Ottima sia l'integrazione con Alexa sia la portata della connessione Wi-Fi. Molto buoni anche l'audio catturato dal microfono e quello emesso dallo speaker. La qualità delle immagini invece è nella media. L'unica cosa di cui mi aspetto un miglioramento nel prossimo futuro è il tracciamento intelligente del movimento che nel momento in cui sto registrando questo video non è propriamente ancora appunto al 100%. Detto questo come sempre per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni